Nuovi problemi per gli automobilisti. Da febbraio cambia tutto. A partire da febbraio 2024, le revisioni auto subiranno significative modifiche. Queste novità sono state dettagliate nella circolare PROT numero 33287, pubblicata il 7 novembre 2023 dalla Direzione Generale della Motorizzazione. Le principali innovazioni riguardano l'uso obbligatorio dei controlli tramite OBD, Onboard Diagnostics e la verifica dei chilometri percorsi per contrastare eventuali manomissioni dei contachilometri. Un aspetto fondamentale è che, se durante la revisione la spia 1000 malfunction indicator lamp è accesa, sarà necessario collegare lo scantula alla presa OBD e avviare il motore per rilevare gli errori memorizzati nella centralina. Se questi errori non vengono letti, l'auto non passerà alla revisione. Inoltre, se la presa OBD non è disponibile, o non si stabilisce comunicazione con lo strumento, si dovrà effettuare un controllo visivo per la spia 1000. I centri di revisione dovranno assicurarsi che i loro software di prenotazione e stazione siano conformi ai nuovi standard dentro il 31 gennaio 2024. Dal 1 febbraio 2024, sarà indispensabile utilizzare l'attrezzatura OBD per effettuare le revisioni. Inoltre, i centri dovranno comunicare all'UMC, Ufficio Motorizzazione Civile, lo schema di collegamento, o aggiornare i contagiri esistenti secondo i termini stabiliti. Le nuove regole introdurranno anche un controllo sui consumi di carburante, in particolare per i veicoli immatricolati dal 1 gennaio 2021, i cui dati saranno raccolti a fini statistici. Queste modifiche mirano a garantire maggior trasparenza e sicurezza nelle revisioni auto, prevenendo frodi e assicurando che i veicoli rispettino gli standard di sicurezza e ambientali. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie